buongiorno sono adriano fabris voglio presentarvi un mio libro che si intitola la fede scomparsa eccolo come dice il titolo è un libro che parla della fede certo è un argomento oggi non molto diffuso da qui appunto il titolo del libro nel senso che interessa le persone che hanno una disposizione religiosa che credono soprattutto i credenti in ambito cattolico i credenti che si riconoscono all'interno della tradizione ebraico cristiana ebbene però vediamo che le chiese sono vuote vediamo che la trasmissione della fede di generazione in generazione diventa sempre più problematica più difficile proprio per questo in questo periodo si sta svolgendo in italia e in europa e nel mondo un sinodo una riflessione collegiale delle chiese cattoliche proprio per recuperare quella che è una identità una consapevolezza una motivazione religiosa ecco il libro vuole tra le altre cose anche essere un contributo in questa direzione qual è la sua tesi si parte appunto dal dato di fatto che è certificato da tutta una serie di analisi di indagine anche di carattere sociologico la dimensione religiosa la espressione della propria fede il raggiungimento stesso di una dimensione credente oggi è chiaramente in crisi ma appunto a differenza di altri tentativi di recuperare di affrontare questo fenomeno il libro vuole andare subito a interrogarsi a cercare di precisare di avere una risposta su che cosa è la fede cerca di dare un identikit della fede la tesi è che se oggi le chiese sono vuote se oggi c'è una perdita appunto di questa sensibilità religiosa è perché non sappiamo più che cosa vuol dire fede la scambiamo con altre cose non sappiamo più precisamente che cosa vuol dire la fede cristiana la scambiamo con altri tipi di credenza questo lo fa la filosofia che appunto in molti casi scambia una credenza epistemica si chiama così il credere ad esempio che domani sole sorgerà un ausilio alla nostra conoscenza con la fede religiosa questo fanno anche tante tendenze presenti pur nella nostra chiesa che sono volte ad agire operativamente in maniera adeguata basta muoversi in maniera caritatevole si è buoni cristiani no non basta perché è necessaria una motivazione la fede da questa motivazione allora la parte consistente del libro è quella davvero che vuole offrire un identikit della fede vuole cercare di farci capire in che cosa la fede consiste qual è propriamente l'impegno del credente leggete il libro leggete i capitoli in cui si parla della logica della fede in cui si parla della fede come relazione in cui si parla anche di come è possibile a partire da questa concezione comune del credere del credere religioso anche instaurare effettivamente un dialogo fra le diverse religioni le diverse confessioni in sintesi però la mia tesi è questa la fede è qualche cosa di difficile ed impossibile e la assunzione di una prospettiva che ci permette di vedere le cose in tutt'altro modo una prospettiva che ci offre senso e questo anche contro quella che è la nostra normale abitudine quella che è l'apparenza quello che è il modello di spiegazione efficiente che ci viene offerto dalle varie scienze che viene realizzato dalle tecniche delle tecnologie adesso possiamo spiegare quasi tutto e credere di controllare quasi tutto ecco perché non c'è più spazio per la fede invece no la fede è l'assunzione un salto di un orizzonte di una dimensione che è realmente controfattuale ma a partire da questa dimensione completamente diversa noi siamo in grado davvero di rivedere le cose e di mettere tutto quanto in un giusto ordine sembra strano sembra davvero impossibile e infatti la fede è qualche cosa di impossibile è andare contro l'ordine normale naturale delle cose del mondo eppure assumendo questo tutto diventa possibile c'è un detto evangelico la fede smuove le montagne è diventato anche un proverbio ebbene è vero perché proprio assumendo una impossibilità come qualche cosa di possibile tutto alla fine diventa possibile assumendo questa impossibilità quello che ci capita i dolori le difficoltà i problemi che dobbiamo costantemente affrontare come qualche cosa di risolvibile in un'altra prospettiva allora davvero tutto si scioglie non è più qualche cosa contro il quale noi cozziamo come contro le montagne no anche le montagne si muovono la fede rende possibile questo grazie grazie a tutti